Il settore giovanile della Riva Rolese festeggia un nuovo importante traguardo. Due delle sue formazioni impegnate nei campionati provinciali dedicati alla linea verde non hanno deluso le attese di staff tecnico, dirigenza e tifosi, conquistando i rispettivi campionati al termine di un fine settimana davvero intenso e gioioso. C'è gloria nelle file Granata per la squadra Under-16, capace con un turno di anticipo di chiudere i conti e portare a casa la prima posizione nel girone. La squadra guidata in panchina dal duo Gallo-Sinato si è affidata al bomber Bettas, autore di una doppietta, a Tommaso Gallo, a Giordano ed a Giacchino per asfaltare letteralmente il CGS a Osta, battuto nel weekend per 5-0 e portare a casa un successo assoluto che è figlio di una stagione strepitosa. Basta dare uno sguardo alla classifica per rendersene conto. Con ancora un match da disputare la formazione della Rivarolese ha accumulato 59 punti, grazie a ben 19 successi, due pareggi e soprattutto nessuna sconfitta nell'arco delle 21 gare giocate. Stratosferici sia l'attacco, come il reparto arretrato. Nel primo caso ben 119 sono state le reti realizzate, mentre appena 8 sono i gol incassati, facendo dei canavesani i migliori del raggruppamento A. Nulla da fare quindi per Gassino-San Raffaele, secondo ora 52 punti, San Mauro-Vallorco e Settimo, le rivali più dirette che si sono dovute inchinare allo strapotere dei ragazzi di Gallo e Sinato. Sempre con una partita di anticipo, rispetto alla chiusura naturale del campionato, la formazione Under-14 di Mr. Marras, di recente protagonista a livello internazionale, si aggiudica il passaggio ai regionali. Ieri, domenica 23 aprile, davanti al pubblico amico, l'11 Granata se la doveva vedere contro Livre a Calcio, l'unica rivale che ormai poteva rompere le uova nel paniere ai rivarolesi. Gli arancioni ci hanno provato, impattando l'iniziale vantaggio di Italiano su rigore con un gol di Soluri, ma la capolista, con altri due penalti realizzati da Verretto ed ancora da Italiano, hanno chiuso il conto sul 3-1 e così, a fine match, la festa è stata meritatissima. Il gruppo guidato da coach Marras, coadiuvato dai dirigenti Motto e a Canali, inserito nel girone A di Aosta, ha sino qui condotto la stagione in maniera egregia. Nei 19 confronti completati, infatti, ha colto ben 18 affermazioni, lasciando punti, un pari, in una sola occasione. Tutto questo grazie ad un ruolino di marcia che parla di 98 reti, realizzate ed appena 9 subite. L'ivrea, avversaria di tutto rispetto, è ora staccata di 6 lunghezze, mentre al terzo posto c'è Agreville, che invece ha 8 punti meno rispetto ai canavesani. Tirando le somme, un doppio sigillo che ripaga pieno il grande impegno del club del presidente Surace, il quale da tempo punta fortemente sulla crescita del proprio vivaio, ripagato appunto da risultati come questi, che portano il calcio nostrano alla ribalta provinciale e non solo.